Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Alessandro e per chi non mi conosce ancora, mi diverto a fare video su YouTube. Nel video di oggi torno indietro nel tempo. Torno indietro nel tempo in quanto la mia memoria torna ai primi orologi che mi piaceva comprare, acquistare e indossare. Ricordo ancora il primo Casio che mi regalarono i miei genitori con un computerino dove si poteva scrivere e tenere all'interno della propria memoria una rubrica telefonica o degli appunti dei numeri di telefono o poco altro. Con gli anni poi siamo passati a cose sempre più grosse, sempre più mastodontiche, prime calcolatrici che facevano anche da mini computer, mi ricordo, della Casio e della Sharp. Per poi finalmente arrivare ai wearable, quindi ai bracciali o orologi indossabili che deve essere non solo monitorato il tempo che passa ma anche altre funzioni. Negli anni sono passato a diversi oggetti, qualcuno molto china, molto cinese e qualcuno un pochettino anche più evoluto. Sono passato così dal mio fido primo Apple Watch serie 2 che ormai improvvisamente si è spento, non si è più riacceso e mi è abbandonato, fino a passare ad altri dispositivi quali la prima, anzi no questa è la terza, la terza band come generazione della Xiaomi, la classica band. Poi sono passato all'Apple Watch serie 5 che vi lascio qui sopra, ancora oggi funzionante, perfetto, con un quadrante ancora incredibile e comunque con la batteria che ancora mi dà un paio di giorni di durata. Però ho bisogno anche di un qualcosina che mi potesse affiancare tutti i giorni per quando sono a lavoro, che magari rischio di prendere colpi o prendere dentro dappertutto mentre mi sto muovendo durante le mie attività. Come anche poter andare, per esempio, come ho fatto quest'anno, d'estate al mare e potermi fare la doccia, andare sott'acqua, non avere pensieri o paure dell'oggetto che ho al polso, come per esempio Apple Watch che purtroppo si dice che resiste all'acqua, resiste agli schizzi, resiste se faccio una doccia o un bagno, ma io non mi sono mai fidato di indossarlo, in quanto purtroppo si legge che in alcuni casi smette di funzionare penetrando l'acqua e tra l'altro Apple non risponde neanche in quanto loro avvisano che non è un IP65, un IP66 o un IP67, ma semplicemente resiste agli schizzi dell'acqua. E quindi, approfittando di alcuni sconti che avevo a disposizione, ho acquistato una serie di questi, di cui vi lascio sempre qui sopra i video, sia dell'Apple Watch che dell'AUK, lo reputo davvero eccezionale, leggero, compatto, resiste davvero a tutti, ne ho acquistati davvero tre, uno ce l'ho io, uno ce l'ho mia moglie, uno l'ho regalato a mio padre, funzionano benissimo, fanno un track in maniera abbastanza decente di quello che è le proprie attività o comunque il battito cardiaco e resiste davvero a tutto, l'ho portato in acqua, sotto la doccia, al mare, tuffi, spiagge, eccetera, non ha mai mai perso un colpo, non ha mai dato neanche segni di cedimento. Ma ora, approfittando di un'offerta che mi è arrivata su Amazon, mi sono precipitato a vedere un attimino cosa c'era sul mercato di carino e di nuovo soprattutto. e in mezzo alla marea infinita di prodotti che c'erano in offerta ho trovato lui, lui che è il nuovo Mi Watch di Xiaomi, la versione è in pratica top. Ho scelto la versione blu perché in questo momento mi piace molto, notate il cinturino, notate l'altro orologio, soprattutto anche il mio iPhone lì dietro, anche lui blu perché mi piace molto. Ora andiamo ad aprirlo perché ho letto veramente di tutto, ho visto anche parecchie recensioni positive, ho visto anche delle analisi che sono state fatte di questo prodotto e secondo me davvero potrebbe essere un valido sostituto a tutti i giorni del mio Apple Watch perché ha una lunga durata con la batteria, ok, è tondo, io l'ho passato adesso ai quadranti quadrati, mi piacevano molto, ma un ritorno al vecchio look tondo non sarebbe nemmeno male, anche perché sarebbe un orologio di backup, sarebbe un orologio che indosserei tutti i giorni sotto la doccia, ammazza quanto è grosso! Dicevo, lo indosserei tutti i giorni per andare a lavoro sotto la doccia, per andare al mare, in piscina, per fare sport, eccetera, ma non mi aspettavo assolutamente queste dimensioni, è davvero un bestione! Adesso se lo paragono di fianco all'Apple Watch, adesso vi metto di fianco anche l'altro, vedete che, insomma, è un bel 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 bestione, non è assolutamente piccolino! Perché mi ha fatto scegliere questo modello? Innanzitutto perché penso comunque che i prodotti della Xiaomi non siano assolutamente malaccio, ma soprattutto perché questo tipo di orologio dà anche altre funzionalità, oltre alla classica, bell'iconina quasi inesistente, sopra, alla classico monitoraggio, tracking, a questo è un po' meglio, al monitoraggio, dicevo, dell'attività fisica, del battito sanguigno, della pressione, questo fa anche controllo dell'ossigenazione, che verificherò comunque subito, dopo che avremo fatto partire il dispositivo e verificato il contenuto della scatola, contenuto che è abbastanza ben dotato, nel senso che abbiamo il suo caricatore, che come sempre ormai ci hanno abituato questi oggettini, è un caricatore magnetico, magnetico, quindi che si attacca magneticamente al nostro dispositivo, esatto, non credo che, ah no, sia a un lato, perché, ok, è guidato, sì, allora il magnete è guidato, perfetto, quindi vuol dire che non possiamo sbagliare a agganciarlo, in quanto dalla parte opposta viene respinto, e quindi non si collega, invece in questo modo, tac, si aggancia perfettamente, ok, lo schermo vedo già che avrà bisogno di una protezione, perché essendo così tanto grosso è anche molto facile dargli le colpe, e quindi andarlo a rovinare, adesso lo mettiamo in carica, lo facciamo caricare per benino, e poi, e poi andiamo a scaricare l'app sullo smartphone, e a configurarlo subito, anche perché avevo detto che ha diverse watch face abbastanza simpatiche e carine, questa è anche la garanzia ufficiale italiana, ovviamente. Allora, qualche minuto e ci vediamo subito ancora qua. Avviamo l'applicazione per la sua prima configurazione, quindi accettiamo subito la privacy, definiamo la nostra regione, che ovviamente non è Cina, ma sarà Italia, diamo l'ok per accedere quindi alla configurazione, andiamo avanti, e a questo punto ci chiede il nostro classico account, che dovrebbe essere lo stesso identico account, per esempio, della nostra Xiaomi Home, che è quella di cui parlavamo poco fa, che io già ho, quindi provo a mettere delle credenziali, e vediamo se vengono accettate. Ok, l'account è lo stesso identico account del Xiaomi Home, quindi è un account unico che viene utilizzato tranquillamente. Adesso qui andrò ad inserire i miei dati della media, perfetto. Ora credo che andrà collegato il dispositivo Mi Watch. A questo punto mi propone i vari dispositivi. Aggiungiamo il nostro Mi Watch e non il Mi Watch Lite. Ok, accettiamo, il connesso connesso, viene abbinato in questo momento con il codice che viene identificato sul telefono, perdono, sullo smartwatch. Voilà. E questo è fatto. Diamogli l'autorizzazione, selezioniamo, mi dice di aggiungere, qui posso scegliere poi tutti i vari quadranti, compreso una miriade di quadranti online, che si possono scegliere. E niente, adesso direi di andare a vedere ancora sullo smartphone, dopo aver configurato dall'app, il quadrante che per questo momento posso dire che mi sia quello più piacevole alla vista. Andiamo a vedere subito dall'altra parte. Ok, alla prima accensione ovviamente ci viene proposto il menu di configurazione. Lo schermo è sensibile al tocco, quindi occorre passare fino a che non troviamo la nostra lingua. Eccolo qua, italiano, e confermiamo. Ora, chiede di scansionare l'app, pardon, di scansionare il QR code con uno smartphone per l'app di configurazione. Andiamo subito a questo punto a scaricarla. Prendiamo subito il nostro smartphone, andiamo a leggere il QR code che ci viene proposto. L'app è la Xiaomi, Wear Lite, che è diversa da l'altra applicazione, tanto per intenderci, che era quella che gestiva, per esempio, la Xiaomi Mi Band, ma anche l'altro modello di orologio, che è il, se non ricordo male, Mi Watch Lite, che è un altro tipo di smartwatch, molto simile, tanto per intenderci, a questo della OK, è molto molto simile. Ora andiamo a scaricare la nostra app. Peccato anche perché tutti gli altri prodotti Xiaomi ce li ho con l'app unica, che è l'app, quella sua, di gestione, dove ci sono praticamente all'interno dell'app, tutti i prodotti domestici, chiamiamoli, di casa Xiaomi, quale per esempio, il robot, il vacuum cleaner, il pulificatore d'aria, che è il Xiaomi Home, tanto per intenderci. Peccato perché all'interno, se non ricordo male, dello Xiaomi Home, oltre alla possibilità di inserirci per esempio videocamere, le luci a LED, le luci a lampada, le lampade a bulbo, i vari sensori, i sensori di rilevamento, router, eccetera, c'era anche per esempio lo scooter, la bicicletta, il monopattino, i vari tool, peccato, potevano inserire sempre dentro nella stessa app, così rimaneva un'app 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 unica, invece dove darà nuovamente andare a scaricare una nuova app. Ora andiamo a vedere se ha terminato il download dell'applicazione, sì, ok, adesso passo direttamente sull'app per la sua configurazione. E rieccoci qui, siamo davanti al nostro orologio, andiamo a vedere di attivarlo, ok, come vedete ho applicato la watch face che avevamo visto prima che non è nient'altro che questa. Ok, cosa dice questa watch face? Ci dà tutte le informazioni, abbiamo la temperatura, adesso probabilmente dovremmo dare le varie autorizzazioni per collegarsi anche alla parte meteo, eccetera, abbiamo le informazioni della data, l'ora, la batteria, il giorno della settimana, adesso ecco, se è collegato vede già 26 gradi centigradi e le funzioni indicanti il nostro, diciamo, step di movimento, di velocità, eccetera, eccetera. passando a destra a sinistra appaiono tutte le funzionalità della tipologia di informazioni e adesso quello che secondo me possiamo fare è verificare subito tra le impostazioni per esempio dell'Apple Watch e le impostazioni di questo orologio se ci sono variazioni per esempio per quanto concerne il battito. poi vado a recuperare immediatamente il rilevatore, il misuratore di ossigeno nel sangue che come tanti ho acquistato anch'io durante il periodo del Covid e facciamo subito una prova per vedere se è corretto o non è corretto e se tutte le impostazioni sono, diciamo, il più vicine possibile a quello che è la realtà. Cominciamo dalla rilevazione del battito. Allora, sono partito con lui che mi dice che in questo momento ne ho 75-76 qui nell'Apple Watch dice 77 sull'altro polso 80 vediamo 79 quindi direi che sulla parte battito 84 io mi sto un attimino muovendo in questo momento con le gambe 81 vediamo se aumenta andiamo ad aumentare piano piano quello che è il nostro battito muovendo le gambe sto muovendo le gambe per simulare non dico una corsa ma comunque una camminata quindi siamo a 79 e qui 78 quindi ci siamo adesso andiamo a vedere la parte dell'ossigenazione ok misuro misurazione in corso indossare l'orologio in modo corretto rivolto verso l'alto e tenendolo fermo alla prova ok mi dice un 96 95 94 93 94 94 94 94 94 94 con un battito di 73 e ora vediamo il nostro fantastico misuratore digitale vediamo cosa dice lui beh beh attenzione 94 76 95 95 76 ci siamo direi che anche la precisione dell'elettura d'ossigeno non è male è assolutamente no è preciso quanto questi digitali ora vediamo perché sull'app se non ricordo male dovremmo trovare in pratica tutti questi dati se io vado a rilevare in questo momento questa è l'impostazione cronologicamente frequenza cardiaca energia 50% ossigeno vediamo se è già trasmesso il dato ah ok stanno arrivando adesso i dati eccoli qua eccoli qui perfetto ossigenazione fantastico 1-2 meter ok questa non l'abbiamo misurato quindi giustamente questa è la parte di energia la frequenza cardiaca con un riepilogo delle misurazioni beh insomma direi che anche nell'app abbiamo tanta tanta roba ma una cosa simpatica ecco anche le notifiche che arrivano in questo momento è la parte sport dove io selezionando la parte sport io posso andare a selezionare le varie attività e sono davvero tantissime perché si parla di tante 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 rilevazioni che io posso fare per non tralasciare la parte di configurazione dove io posso andare a prendere o i quadranti che dall'app mi risultano praticamente disponibili che sono già parecchi perché sono questi quattro più una galleria online davvero davvero allucinante incredibile di quanti ce ne sono di tutti i gusti davvero di tutti i gusti più se non ricordo male c'è una parte dove si possono andare anche a comporre a piacimento questo magari lo vediamo in un altro video adesso io cercherò di capire anche alcune cose che potrebbero servire per esempio le attività bicicletta corse eccetera e poi da domani si comincia a fare un bel test di qualche giorno di utilizzo in modo pesante per capire effettivamente se può essere un valido sostituto a un orologio a un tracking che possa fare sport oppure se è solo un bel prodotto e stop finita lì vediamo insieme ora come configurare l'applicazione per un corretto utilizzo del nostro smartwatch l'applicazione di riferimento non è la solita Xiaomi Home oppure la Xiaomi Mi Fit ma la Xiaomi Wear Lite nuova applicazione che è stata creata e realizzata apposta per i nuovi dispositivi di Xiaomi l'applicazione ovviamente va configurata precedentemente all'utilizzo se già non avete un account Xiaomi registrato va bene anche uno Xiaomi Home o uno Xiaomi Mi Fit dovete crearne uno creando uno da zero ve lo chiederà all'inizio proprio all'ingresso dell'applicazione io ho utilizzato ovviamente la mia di Xiaomi Home che va benissimo funziona perfettamente un'altra parte molto comoda dell'applicazione per esempio è la parte di importazione dei dati ovvero si può importare in modo automatico i dati dall'applicazione precedente quindi nel caso di nel caso mio dove avevo già dei dati sincronizzati con la band la Mi Fit nelle impostazioni della della nostra applicazione troviamo un punto dove si possono importare qua in alto i dati da Mi Fit vedete questo punto dove dice trasferisci dati da Mi Fit lui si collega in automatico all'applicazione Mi Fit che è quella tanto per intenderci delle band 1 2 3 4 eccetera e importare a questo punto tutti i dati che noi avevamo già stoccato e storato nel cloud di Mi Fit una volta fatto quello noi ci troveremo tutto lo storico all'interno di questa applicazione quindi una cosa fantastica e pronta per essere utilizzata completamente dal nuovo smartwatch smartwatch che offre tantissime tantissime davvero opzioni all'interno della sua app diciamo che nella parte dello stato che vedremo dopo abbiamo tutte le informazioni relative ai dati che raccoglie ma nella zona del profilo io posso andare praticamente a fare tutto posso verificare la batteria andarmi a scegliere uno dei quadranti predefiniti locali oppure una delle decine di quali già disponibili online che sono differenti posso modificare le notifiche andando nella parte del mio sistema operativo a seconda se è Apple oppure un Android posso andare a fare un collegamento perché il nostro dispositivo ricordo che supporta anche nativamente Amazon Alexa quindi se io vado a fare la sincronizzazione e il collegamento tra l'app e Amazon Alexa io avrò la possibilità con il pulsante superiore quello tanto per intenderci della home del mio smartphone tenendolo premuto potrò digitare vocalmente i messaggi ad Alexa quindi posso andare a interagire anche con tutta quella che è per esempio la mia domotica se voglio utilizzare Alexa con il mio dispositivo invece che utilizzare per esempio un dispositivo di Alexa proprietario di Amazon cosa importante il telefonino è sempre collegato il nostro telefonino è sempre collegato con lo smartwatch sia via bluetooth che con wifi perché in pratica va a lavorare completamente sulla parte dati per avere anche questo tipo di informazioni posso andare a prendere la notifica delle app posso abilitare e disabilitare quasi tutte le notifiche un po' come succedeva anche sulla band sulla Mi Fit e nelle impostazioni aggiuntive io posso programmarmi quello che è la parte sonno quindi quando disattivare le notifiche posso andare a mettere a posto un attimino quelli che sono i miei widget sullo schermo e posso riordinarli cambiarli toglierli posso andare a collegare eventualmente degli esercizi predefiniti dal mio pulsante sport nel mio caso ho messo ciclismo all'aperto ma posso selezionarne praticamente tantissimi cioè posso selezionare tutti quelli che ho come sport predefiniti all'interno della mia app sport che trovo dove sotto allenamenti io negli allenamenti posso decidere il gruppo che sono i miei allenamenti predefiniti ma sotto ne ho decine e decine che posso aggiungere oppure rimuovere dalla mia applicazione a seconda dello sport che io vado a monitorare nella parte meteo ovviamente ho tutta la parte di aggiornamento meteo controllo aggiornamenti da parte di aggiornamenti software e firmware del nostro dispositivo nelle impostazioni aggiuntive come vi ho fatto vedere c'è tutta la modalità predefinita e la parte di diciamo utilizzo vero e proprio nella rotellina invece in alto io posso andare a fare altre ancora impostazioni tipo per esempio selezionare la regione di appartenenza vedere quali sono le app in questo momento native connesse al mio smartwatch direttamente del mio dispositivo quindi salute ovviamente di Apple e Strava che è quello invece per il tappeto corsa running jogging eccetera l'applicazione terza posso andare ovviamente a mettere la sospensione del caricamento delle posizioni se voglio un po' di privacy per quanto concerne il GPS e stop comunque a livello di impostazione aggiuntiva ma la parte forte è lo stato nello stato io ho praticamente tutto quello che lui cattura dal mio smartwatch posso vedere quello che sono la distanza percorsi i passi il sonno della notte precedente la frequenza cardiaca sia di questo momento che uno storico basta che vado a vedere quello che è il giorno vedo la settimana posso andare a scegliere oppure andare direttamente su oggi il tracking è quello che lui dice come tracker mi watch ovviamente e qui sotto un riepilogo giornaliero delle frequenze cardiache di come va lui a rilevare il nostro battito durante la giornata vedo l'energia che lui cattura come energia del nostro corpo in questo momento mi dice che sono al 61% il livello di stress in questo momento lo vede da quello che è il battito da quello che è il movimento quanto si sta in piedi il tempo che si sta in piedi la parte di ossigerazione molto importante anche questa soprattutto ci ha insegnato il covid di quanto è importante avere un'ottima ossigerazione nel nostro corpo almeno dal 90 al 100 sotto 90 comincia ad essere un livello di guardia e come abbiamo fatto vedere la verifica con il dispositivo è reale quindi effettivamente i dati che cattura sono identici a quelli che sono un dispositivo domestico che va con il dito tanto per intenderci non possiamo essere precisi come quello rilevato per esempio da sangue come vedete c'è tutto c'è davvero tanta cosa negli allenamenti io posso verificare nella parte degli eventi io vedrò a questo punto tutti i miei sport tutto quello che ho fatto sono quelli eventualmente selezionati con anche una mappa dove vedrò in pratica gli spostamenti ma soprattutto da qui posso far partire la mia attività la mia attività che mi terrà monitorato a questo punto tutto quello che è la mia corsa il mio movimento e sullo smartwatch vedrò un riepilogo di questa schermata in pratica questa identica schermata con in più anche la parte della frequenza cardiaca che qui vedo qui sotto lo vedrò direttamente come dato sullo smartwatch stoppando il nostro chiamiamolo la nostra attività torno all'azzeramento diciamo della parte dell'attività e infatti mi comunica in questo caso che essendo stato fermo la distanza è troppo breve quindi i dati non verranno riportati altrimenti io qui vedrei all'interno della mappa anche il percorso che ho fatto come avete visto le funzioni di questo orologino non sono niente male e anche perché devo dire che effettivamente le quantità di sensori che sono riusciti a inserire al suo interno ci dà la possibilità di monitorare davvero qualunque tipo di cosa del nostro corpo quindi dal battito all'ossigenazione al tracking quindi durante una corsa e un allenamento essendo impremeabile fino a 50 metri lo si può indossare davvero ovunque sia per fare sport sotto la doccia nuotando al mare in piscina o tutti questi sport senza alcun tipo di problemi e paure di rovinarlo con l'acqua e l'app è davvero ben fatta devo dire che raccoglie nel suo insieme tutte le informazioni che lui cattura mentre è al nostro polso quindi io vedrò tutte le informazioni come potete vedere da qui sia sulla parte di chiamiamola parte cardiaca ossigenazione la parte di stress quanto sono stato in piedi quanto ho dormito e tutto questo oltre come vi dicevo all'interfaccia che posso scegliere liberamente le notifiche cosa importante che non sapevo scoperto mentre lo configuravo è la possibilità di connetterlo direttamente ad Alexa cosa che fa sì che il nostro orologio ora disattivo il mio Alexa che ho qui in studio può interagire con tutta la nostra struttura tramite la wifi del collegamento col telefono con tutto quello che ho di domotica io se per esempio faccio premuto Alexa accendi luce studio come vedete ha acceso immediatamente le luci Alexa spegni luce studio bello perché a questo punto io ho al polso un qualcosa che è integrato anche addirittura con il mondo di Alexa e l'accessibilità a tutte le informazioni dello smartwatch avviene in un modo molto semplice io posso gestire o diciamo tutto dal mio pulsante quindi nella parte sotto per la parte delle attività ma nella parte superiore io posso accedere alle icone delle app che io ho in gestione nel mio Apple nel mio smartwatch come posso scorrere direttamente da sinistra verso destra o da destra verso sinistra e avrò nient'altro che sul display i widget che io posso andare a collegare al mio quadrante in questo modo io tranquillamente posso mettere in ordine o aggiungere o togliere se non voglio alcune app dal dal mio telefono dal mio orologio pardon devo dire ripeto bella fatta bene l'applicazione è pulita molto lineare purtroppo sarà un'altra app da mettere nelle mie centomila app che ho sul mio smartphone però purtroppo quando siamo a questi livelli posso gestire tranquillamente quindi tutte le app o tutti i widget che sono stati inseriti all'interno dell'applicazione la cosa bella è che è in continuo aggiornamento quindi viene continuamente aggiornato sia quello che è il software il firmware del nostro orologio ma tanto anche quanto l'app che quindi si migliora continuamente ogni volta che c'è un aggiornamento devo dire davvero che mi sembra un buon prodotto l'unica cosa è che questo schermo così grosso mi fa pensare che devo assolutamente prendere qualcosa per proteggerlo perché altrimenti tempo zero l'avrò già rovinato una cosa una cosa che vedo è che si spegne praticamente quasi subito il display cioè rimane qualche secondo e poi va via quindi non è un always on non è un display che rimane sempre acceso come era per esempio quello dell'ok molto particolare perché aveva questa funzionalità dove rimaneva praticamente sempre acceso dando problemi quindi alla gestione dell'orologio vediamo questo molto probabilmente esatto devo fare il movimento del polso per accendere lo che ci sta va bene per carità però mi sarebbe piaciuto di più se c'era la possibilità di lasciarlo magari un po' più soffuso e poi girando la luminosità però è vero anche che lo posso gestire così anche per la notte per non fare che mi dà fastidio mentre per esempio si dorme ora farò un test in questi giorni vi porterò i risultati soprattutto per quello che riguarda lo sport quindi per quello che riguarda i miei giri in bicicletta le mie passeggiate le passeggiate con la mia cagnolona in giro per il quartiere per vedere se con i due orologi al polso i dati più o meno sono avventurati anche perché ottengo sempre come punto di riferimento i dati che il mio Apple Watch cattura mentre faccio tutte queste attività detto questo se vi è piaciuto questo video vi ricordo come sempre di mettere un mi piace di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanella qui sotto per non perdere tutti i video che andrò a pubblicare e portare sul mio canale e vi ricordo come sempre che l'iscrizione per voi è gratuita a voi non costa nulla ma per me è importante perché mi permette di portarvi questi oggetti quotidianamente ogni settimana sul canale grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti